Il concorso Cinema d'Impresa è giunto alla quarta edizione. Quest'anno i ragazzi cercheranno di raccontare un comparto particolarmente importante in Asso Lombarda che è il comparto manifatturiero dell'industria della gomma e della plastica che vede circa 200 imprese nostre associate. La cosa che caratterizza questo comparto è che ci troviamo di fronte a grandi imprese multinazionali ma anche a tantissime medie imprese e a piccole imprese familiari. È un comparto con un alto livello di tecnologia ed è un comparto votato all'innovazione, alla ricerca ma anche alla sostenibilità ambientale. L'importanza di questo premio poggia proprio nel nostro obiettivo che è quello di mettere in contatto due mondi diversi, due realtà diverse. La realtà dei giovani e quello del mondo delle imprese. In modo tale che i giovani imparino a conoscere le nostre imprese perché per poterle raccontare le devono conoscere da lì dentro realtà imprenditoriali, manifatturiere che poi alla fine sono fatte di persone che lavorano con la loro genialità, con la loro voglia di fare. Vi aspetto quindi il 16 novembre insieme alla giuria che ho l'onore di presiedere in Asso Lombarda dove potrete assistere alla proiezione dei dieci filmati e dove avverrà poi la scelta del filmato che vincerà quest'anno il premio.